La giunta provinciale viene incontro agli studenti delle superiori eliminando il 3 e il 2 o ancora peggio dalla pagella e istituendo di fatto il 4 politico come già accade per le scuole dell'obbligo. Dal prossimo anno scolastico infatti gli insegnanti potranno assegnare voti da 4 al 10 in modo da concedere allo studente distratto di poter recuperare un brutto voto con le successive prove. Dalla carota poi l'esecutivo è passato al bastone con un energico giro di vite contro gli studenti assenteisti. D'ora in poi spiega il presidente Durvalder chi non frequenta almeno i tre quarti delle ore di insegnamento sarà bocciato. Guardi noi abbiamo detto in pagella non dovremmo andare sotto il 4 perché quando io dico diciamo quel bambino è bravo allora gli do un 8, quando dico appena appena dico 6, quando dico insufficienti dico 5 però quando dico non sa proprio niente gli do un 4 però dargli un 2 non ha senso perché questo non sarebbe mai un incentivo per il bambino di migliorarsi perché io dico quando prendo un 4 e allora sono ancora due prove scritte posso arrivare a 18 diviso per 3 un 6 però quando prendo un 2 allora la prossima volta devo fare un 10 per arrivare a un 6 e questo diciamo quando uno non sa proprio niente sarà difficile la prossima volta prendere un 10 e perciò noi abbiamo detto no dovremmo tenerci tra il 4 e il 10.